Ieri mattina la Marina Militare ha recuperato le 13 bombe rinvenute nei giorni scorsi sul fondale antistante il Molo Sud di Porto San Nicolò a Riva. Ora il piccolo arsenale ripescato dalle acque del Garda sarà conservato in un posto sicuro e segreto fino al brillamento che dovrebbe aver luogo nei prossimi giorni in una cava ad opera degli stessi artificieri. Il materiale recuperato è principalmente costituito da bombe da mortaio e bombe a mano, ordini risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, probabilmente abbandonati o gettati nel lago dai tedeschi durante la frettolosa ritirata dell'aprile 1945. Sono stati in tutta una trentina gli operatori al lavoro attorno al porto tra Marina Militare, Esercito, Squadra Nautica della Polizia, Commissariato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco di Trento e di Riva, oltre ad un equipaggio della Croce Rossa Militare in supporto.